Musica Bella ragazzi, eccoci qui tornati con finalmente Carriera Giocatore in Special Hero Gianluca Strife Episodio 5 di Carriera Giocatore, oggi faremo le solite due partite E boh, non ho idea di contro chi saremo perché dobbiamo ancora vedere il campionatino Andiamo a vedere, prosegue L'ultima, non mi ricordo neanche com'è finita Dov'è essere impegnati con i nazionali? Blablabla, non mi interessano perché non sono allenatore Quindi, succhia Ah, ci sarà il turno, infatti, ci sarà tipo il turno, infatti, di venerdì far settimanale I diversi club allertati dalla situazione di Ederson, blablabla Non abbiamo bisogno di te No, ma come? Ma non c'è dove l'ha permesso in vendita New Air Sì, no, rega, me lo ricordo New Air Era il negro gigante Bene Via con la prossima partita Ecco la formazione, blablabla Strife, solito Via, giochiamo sta partitazza Eh, raga, premetto che non gioco da 64 milioni di anni a FIFA Perché non gioco solo a battle finito questi giorni, non so perché Però, vabbè, ci proviamo Merde Oh, devi chiuderlo, brociaccio Solo Cosa stanno Cosa Cazzo sta Ebbè Forte Ok Niente È più lento di Gesù il migratore, vero? Non ricordavo Oddio, è entrata Occhio Sto giù Bangarabaragan Stay all one Oddio La, 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 la Toppezzo di merda Oh, oh, ruba palla No Perché torna indietro Cos'è? Gli avversari riconquistano la palla Fido di Troia Passaggio è riuscito Niente Qui si fa la faglia 1-2 Tentano una manovra volgente Attenzione Ma colpisce E con Falle in rete Un gol al volo impeccabile Meritato Bisogna dire Sì, ha cercato la palla senza pensarci Ed è uscito un gol stupendo Bello interno Bellissimo ricordo al fondo Nell'arco Non vanno a tutti a prendere un teccato 1-0 alla fine del primo tempo 1-0 ragazzi Mi dispiace Ma io non riesco a giocare Con questi idioti Bene ragazzi Eccoci con il secondo tempo Niente Ora parto Sì Secondo tempo Dicevamo Siamo 1-0 per loro Non so che Sì Intercettate Non riesco a fare i numeri Con 3 stelle Abilità Bravo Fai salire Oddio Passaggio a buon fine Mi assurcano Tipo voleva incacciarlo Questa qua Quella che ha appena fatto No parole Bello l'assurto di prima Già tutto di prima Grande azione 1-1 Finita 1-1 Due gol Niente di che Niente Mi ho perso la connessione Xbox Live Non so perché Va bene Siamo saliti di 1 Eravamo a 70 Siamo saliti a 71 Insomma a livello di Michael Leap Buono Se mi fai andare avanti Ragazzi La prossima è contro il Club Rouge Buon dio Vediamo Già l'Inter Numero 7 Gianluca Strain Sì Dai Bravo 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 Ma stabile Club Rouge Ma mazziamo Ma mazziamo L'unico fortissimo è Città In questi casi I tre punti Potrebbero valere doppio In quanto ottenuti Contro una diretta concorrente Ugly Ugly Ottima chiusura Aspetta che riparto Bravo Eh no Eh no Al volo Oddio Oddio Pochissimo Perfetto Perfetto Guarda di amici Parti Sì Ma Due Perfetto 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 Oddio che sleppa che la dirà Mi trovo di prima spettacolare La proviamo La proviamo Come sta Come sta Che cazzo Vabbè 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 Trova il compagno A spazio Ehi La scuola 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 Allora Bisogna fare altri 8 di gol Ricordati siamo a campione Sti quali asfaltiamo Sfigatelli di merda La scuola 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 E vincono 6 a 0 Risultato finale Quanti gol ti ho fatto? Come ho visto Gol 3 Mamma mia templetta ragazzi Risultato Attenzione Niente L'episodio si conclude qui Spero vi sia piaciuto E ci vediamo al prossimo Non so tra quando usciranno Bella raga Diva Soon they're gonna hear